Ciao a tutti, vediamo in questo video un protocollo per far innamorare follemente un uomo. In questo video voglio spiegarti come far innamorare follemente un uomo, qual è il protocollo migliore per far innamorare follemente un uomo. Prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, cioè tra abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live, e abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio messi in mente. Adesso veniamo al tema, veniamo al tema è il protocollo per far innamorare follemente un uomo. Allora, per far innamorare follemente un uomo ci sono alcune cose che devi valutare. La prima cosa è sapere quello che vuoi. Allora, diciamo subito che nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare, quindi devi sapere quello che vuoi. Questo è fondamentale, non quello che vuole tua mamma, tuo padre, tuo zio, tua nonna, ma sapere tu esattamente quello che vuoi. Una volta che sai quello che vuoi, devi definire un obiettivo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato, cioè devi sapere esattamente un obiettivo che puoi raggiungere. Una volta che hai definito il tuo obiettivo, devi evitare di uomini sbagliati, guarda cosa fanno e non cosa dicono. Se vuoi uno fedele, non ti trovare un libertino, non ti innamorare di un libertino, metti in atto dei meccanismi di difesa. Quindi devi sapere darti delle emozioni per evitare di prenderti le emozioni dal libertino, insomma devi diventare padrona delle tue emozioni. Una volta che c'è tutto questo, che non è un qualcosa da poco, avrai già scartato, oggi si lavora molto online, quindi puoi avrai già scartato tutta una serie di persone, ad esempio quelli che ci provano subito, quelli che insomma scarta, tanto siamo in sovrappopolazione, non c'è problema. Una volta che hai fatto questo, il terzo punto è attrarlo, quindi l'attrazione per il maschio è sempre visiva, devi dimostrarti femminile, di classe e non volgare. Questa è la prima fase, ovviamente. Poi, una volta che l'hai agganciato da questo punto di vista, devi far vedere che anche da un punto di vista logico ci sei, quindi devi ricalcare un po' i valori, le credenze, fare mirroring, ricalcare i canali comunicativi, vedere se ti va bene però, perché magari potrebbe non andare bene, insomma. Una volta che hai fatto questo, quindi che lui non ha innescato meccanismi di difesa, puoi fare un'altra cosa interessante, dare emozioni. Quindi per dare emozioni devi farle aprire. E quindi qua puoi dire delle frasi durante il dialogo, del tipo, ma secondo me sei azzardi, però secondo me sei un po' diffidente verso le donne, perché hai avuto qualche sofferenza, ho la sensazione che hai avuto una grande sofferenza. E vedi se lui ti racconta di qualche grande sofferenza che ha avuto. Mentre ne parla, ovviamente, si rivive l'emozione, quindi ti percepisce come quella che gli sa dare emozioni. Oppure puoi dire, ci deve essere stato un grande dolore nella tua vita che ti impedisce di innamorarti adesso. È vero, non è vero, però tanto lo butti lì e lo fai aprire. Più apre, più si innesca un meccanismo di coinvolgimento. Una sorta di transfert, insomma. Devi presentarti, non dico come l'analista, ma insomma in questo modo. Quando hai fatto questo, vedrai che lui inizierà a inseguirti, inizierà a rincorrerti. Allora a quel punto lì potrai mettere dei vincoli, delle condizioni. Cioè, che cosa è disposto a fare per te? Beh, se è disposto, non so, a presentarti ai genitori, portarti dagli amici, insomma, a fare delle cose importanti, importanti vuol dire che questo lo porterà a coinvolgersi, lo porterà ad innamorarsi. Però delle cose deve farle. Perché se non fa nulla, diciamo, ebbè, difficilmente si innamorerà. Tu devi vedere che cosa fa, non che cosa dice di fare. Più fa, più si coinvolge. Più cose fa, più si innamorerà di te. Ecco, questo è il protocollo semplice, lineare, per far innamorare un uomo di te. bene, per fargli perdere la testa, per fargli innamorare follemente di te. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai scegliere abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live. Abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.